Il gong suonerà alle 20 del 31 gennaio ma Walter Sabatini vuole fare il prima possibile dopo aver ricevuto il via libera dal presidente Danilo Iervolino, ieri impegnato da remoto nella sua prima assemblea di Lega che ha eletto il consigliere indipendente caldeggiato dall'ala di opposizione facente capo allotito. Il mercato della sanità è letteralmente esploso nelle ultime ore. Simone Verdi è arrivato ieri a Salerno mentre di buon mattino si è avuta la conferma della chiusura dell'operazione Boinen. Il giovane norvegese vestirà il Granata fino a giugno, arriva in prestito con opzione di riscatto dai russi del CSKA Mosca. Nella notte si è definitivamente sbloccata la trattativa per l'altro giovane centrocampista, il brasiliano Ederson, pagato oltre 6 milioni di euro a quanto filtra per portarlo via dal Corinthians. Secondo alcune discrezioni Sabatini avrebbe in mente un colpo in extremis per la mediana, nel mino c'è Diavara della Roma. Occhio anche a Pobega che il Toro potrebbe restituire al Milan con qualche mese di anticipo. In difesa c'è il via libera per Radu Dragusin, classe 2002 che arriva in prestito dalla Juventus dopo aver collezionato 13 presenze con la Samp nella prima parte del campionato di Serie A. Dalla Juventus in arriva anche un altro 2002, l'attaccante brasiliano Caio Jorge e già Parmasimi che ha spinto tanto per lasciarsi alle spalle una prima parte di stagione molto difficile. Il nigeriano approda il club Ducale con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Pronti a lasciare il Palma alcuni attaccanti tra cui il giovane rumeno Man e l'ex Granata Tutino. Sabatini vuole chiudere per una prima punta di un certo spessore. Il DS Umbro si è trovato sulla sua strada alla Samp nella Corsa Ansame. La Samp aveva cercato anche di riportare a Genova dal Sassuolo il francese Defrel che nell'ultima ora è diventato un nome caldissimo proprio per la Salernitana. Non l'unico. Il Toro Frezzazze dal Genova potrebbe spostarsi in extremes destro. Un innesto di esperienza in difesa sarà rappresentato da Federico Fazio che ha un accordo fino al 2023 con la società di Gherbolino. Con l'Iedragusin la batteria di centrale è stata rimpinguata. Ora si aspetta di rifinire qualche cessione. Tra le partenze oltre a Simi c'è quella di Gondo in direzione Cremonese. Grazie.